Eccoci qua ragazzi, è arrivata l'ufficialità per il prossimo campionato di Serie A Ripartirà come potete vedere dal sito di Sport Mediaset Ripartirà il 19 di settembre, quindi è slittato di una settimana Inizialmente doveva iniziare il 12 di settembre Invece hanno deciso di slittare di una settimana E quindi facendo così hanno deciso anche di ridurre la sosta natalizia Quindi praticamente vi leggo le testuali parole Dice la Serie A 2020-21 inizierà il 19 settembre 2020 Il Consiglio della Lega ha preso la decisione spostando di una settimana L'inizio del prossimo campionato Questo slittare di una settimana dell'inizio del campionato Modificherà anche le date della sosta natalizia che verrà ridotta E quindi ci si fermerà appunto il 23 dicembre E si tornerà in campo già il 3 di gennaio L'ultima giornata invece è prevista per il 23 di maggio del 2021 Visto che il prossimo anno ci saranno gli europei di calcio Visto che dovevano esserci quest'anno Ma per causa di forza maggiore non è stato possibile Quindi è stato rimandato al prossimo anno E invece per quanto riguarda questa telenovela Del possibile addio di Conte all'Inter Oggi Antonio Conte ha dato la sua Dicendo che Praticamente adesso apro sempre Sport Mediaset Dicendo che Conte non ha mai chiesto alla Juventus Se Sarri fosse cacciato e quindi che lui sarebbe come dire Ritornato alla Juventus Vedete lui dice In merito all'articolo uscito oggi su repubblica.it Smentisco categoricamente il fatto di aver sentito Dirigenti e giocatori della Juventus Chiedendo ma Sarri lo cacciano E quindi lui dice Querelerò chi ha scritto quest'articolo E' il direttore responsabile della testata Lo ha detto Antonio Conte al telefono con l'Ansa Aggiungendo Ho sposato un progetto triennale con l'Inter E come ho sempre fatto nella mia vita Lavorerò duramente E mi batterò con tutte le mie forze E con tutto quello che è nelle mie possibilità Finché sia un progetto vincente Quindi boh Staremo a vedere se questo corrisponderà al vero O se invece ci saranno altri capovolgimenti E niente Sicuramente ci sarà questo confronto Tra lui e la società Adesso penso che si farà Al termine dell'Europa League E niente Staremo a vedere Io personalmente Mi auguro che resti Perché Come dire Andare via così Per il momento Senza aver vinto niente Soltanto un secondo posto E una semifinale di Coppa Italia A meno che A meno che Riuscissimo A meno che riusciamo a vincere l'Europa League Ma la vedo dura La vedo dura Come dire Con queste formule Chiunque la può vincere Quindi La può vincere l'Inter La può vincere la Roma La può vincere il Wolverhampton O il Getafe Cioè tutte le squadre Lo stesso discorso Vale anche per la Champions League Con questa formula Chiunque la può vincere Perché Essendo partite secche Tutti hanno Una possibilità Verebbe da dire Tutti tranne una Però Meglio che non lo dico Insomma Cerchiamo di essere sportivi Poi Si vedrà E poi C'è questo Come ho detto ieri Nel video precedente C'è L'ombra In caso Antonio Conte Dovesse veramente Andare via dall'Inter C'è questa ipotesi Di Massimiliano Allegri E quindi Staremo a vedere Io Vi dico la mia Io spero che lui resti Perché Come dire Quest'anno ha messo le basi Per fare qualcosa di importante Non solo lui l'ha detto L'ha detto anche Un certo Romelu Lukaku E niente Quindi Staremo a vedere Staremo a vedere Ora Dobbiamo Come dire Sgomberare la mente Non pensarci Pensare alla partita di Di mercoledì Perché è fondamentale Dobbiamo Provarci Dobbiamo Andare avanti Quindi Passare il turno Andare ai quarti Di finale E poi Vedere E sperare Detto ciò Vi saluto Saluto i nuovi iscritti E mi raccomando Iscrivetevi Iscrivetevi Commentate Perché Come ho scritto Bisogna arrivare Entro Il 31 di dicembre Di quest'anno A 100 iscritti Mi raccomando Fate il passaparola Anche ai nuovi iscritti Invito Di fare il passaparola E mi raccomando Continuate Ciao 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 Ciao